Nell'ambito delle direttive ricevute abbiamo effettuato nella giornata di sabato un'attività di controllo anche all'interno dell'ente. In questo periodo voglio precisare subito che l'iniziativa non mira a creare una situazione di tensione tra i dipendenti comunali, perché anche noi lo siamo, ma mira a valorizzare il lavoro all'interno del comune e a premiare chi nel comune mostra impegno, mostra interesse, mostra abnegazione rispetto a chi magari ha un atteggiamento un po' più disinvolto. Quindi l'attività di controllo che è stata avviata ha questa sola finalità, quella di garantire chi lavora e chi lavora in maniera corretta. Se ci sono fenomeni di assenteismo o addirittura di altro, perché non è da escludere, è bene che anche queste cose iniziamo a farle noi facendo pulizia dall'interno, perché queste cose non possono più essere tollerate né da parte di chi amministra la realtà locale, ritengo nemmeno da parte dei cittadini in un momento così difficile.